Scegli la potenza della fibra di Team e solo con Team Vision e Dazon puoi avere tutte le partite del campionato di calcio italiano della Serie A, la Serie B e il grande calcio internazionale a 19,99 euro al mese. Approfittane subito. Vai su team.it Team, la forza delle connessioni.